Lo abbiamo anticipato in apertura, parliamo di Ilaria Salis che si trova in carcere in Ungheria accusata di aver protestato contro i manifestanti neofascisti, il servizio di Maurizio Ciotola. Ilaria Salis, adesso come sta Budapest in carcere? Abbiamo visto delle scene orribili e cosa ci potete dire in merito alle sue condizioni? Allora, le ultime notizie che ho da Roberto, il padre di Ilaria, è che diciamo dal punto di vista generale rispetto a quella che era la situazione immediatamente prima che venisse fuori il movimento di sostegno che evidentemente già quindi ha portato almeno a un risultato di questo tipo lei si trova in una condizione un po' migliore dentro il carcere nella quale si trova. Adesso c'è un importantissimo momento che sarà quello del 28 di marzo quando c'è la prossima udienza del Tribune. In prospettiva di questo voi farete un'azione specifica qui in Sardegli. Facciamo il 20 marzo un presidio di solidarietà e anche per tenere alta l'informazione su questo perché è molto importante l'opinione pubblica rimanga informata e anche ci sia una mobilitazione in difesa dei diritti perché il problema vero è che vengono calpestati i diritti di una cittadina italiana in uno stato dell'Unione Europea, dell'Europa, in uno stato che ha una storia importante come l'Ungheria e che è al centro dell'Europa che dovrebbe essere la patria dei diritti individuali. Abbiamo avuto movimenti in difesa di Patrick Zacchi che in Egitto era stato costretto al carcere insomma in luoghi fuori dall'Europa dove i diritti sappiamo non essere molto ben riconosciuti ma incomprensibili e anche in parte spiazzanti.